La mostra di WordPress Photo è un momento di riflessione, perché noi vediamo sempre l'immagine, magari nei giornali, su TV, ma vanno molto veloce. Visitare la mostra di WordPress Photo ci dà un'opportunità di, con calma, vedere cosa sta succedendo nel mondo. L'anno scorso è stata un anno abbastanza duro, un anno molto complesso, però è anche un anno non solo di guerra, di conflitti, il vincitore gibotta, che ci fa vedere anche un'altra parte della vita, che all'inizio sembra un conflitto, ma invece è un folklore in Spagna. La battaglia dei Dinfarinati è un festival che viene celebrato a Dibi, in provincia di Alicante e Spagna, da circa 200 anni, e si simula questo colpo di Stato. Ci sono due fazioni di infarinati all'opposizione che si scontrano l'uno contro l'altro, con uova, acqua e farina, ma il messaggio principale del festival è quello di avere una guerra d'amore. Quando termina il festival, vanno nelle strade della città, nei negozi, negli uffici commerciali, vanno a sporcare tutto, multano i commercianti e il ricavato va in beneficenza. Oggigiorno di guerre come questa qua di Dinfarinati ci dovrebbe essere molte, molte di più, dovrebbe essere come un esempio.